ed eccoli buongiorno dottori allora è sì questa mattina video proprio così all'improvviso come mai perché oggi parte il nostro tour quello dove saremo in giro per le spiagge italiane quindi da domani da venerdì fino a venerdì prossimo ci potete trovare nelle principali spiagge italiane ci potete trovare chi io il grande nico e il mitico decrypto gateway quindi ragazzi vi consiglio di farvi un giro qua su marco costanza telegram gruppo pubblico perché qua terrò aggiornata h24 la nostra posizione e in più vi diciamo anche ovviamente quali sono le tappe dei giorni successivi domani ci vediamo tutti a rimini e quindi visto che tra poche ore devo partire iniziare insomma a preparare un po tutto per il viaggio ho detto vabbè dai partiamo subito con il video mattutino così vediamo un attimo cosa sta accadendo e oggi vi volevo parlare di una una questione molto interessante per quello che riguarda i mercati o ancor meglio il trading ovvero quella del timing infatti ne abbiamo parlato ieri che era un buon livello per lo short per cominciare ad aprire delle posizioni ribassiste visto che il livello era molto buono che stavamo toccando la media mobile a 200 periodi addirittura se guardiamo i volumi allora guardate qua i volumi come sono in discesa quindi la divergenza che c'è tra i volumi e il prezzo volumi in discesa con un prezzo che sale significa che questa salita banalmente non è sostenuta dal mercato se così vogliamo dire e di conseguenza è molto più probabile che sia solamente un ritracciamento e che da qua si torni a scendere ma oggi mi volevo focalizzare sul lato timing perché perché quando noi riusciamo ad entrare nel momento giusto e quindi aspettiamo che il mercato è un po più tirato piuttosto che dire no no adesso la macroeconomia non ha senso cioè non è in linea col grafico quindi il grafico deve scendere io inizio a vendere adesso perché tanto ragione perché primo poi scende e faccio tutti questi ragionamenti e ripeto ne ho visti veramente tanti scrivere in privato robe del genere e controproducente perché potrebbe funzionare comunque come strategia cioè io inizio ad entrare short come vi dico sempre io costruisco l'operazione ma se non entro già con la mentalità del costruire l'operazione ma entro con la mentalità del a adesso se non è oggi e domani scende e quindi penso di avere il timing corretto vado incontro a diciamo gravi problemi soprattutto psicologici perché poi non riesco a gestire correttamente la posizione ma guardate se io riesco a utilizzare dei livelli che sono banalissimi la media mobile a 200 periodi è molto banale il livello che abbiamo qua di resistenza è iper banale cioè quindi non serve essere dei maghi non serve essere degli scienziati ma solamente avendo la pazienza di aspettare questi livelli guardate quanto poi è molto facile fare dei posizionamenti perché perché in questo momento se io fossi entrato sarei già in profitto di poco di tanto poi quello dipende dalla size dal mio conto da come sto operando ma il solo fatto di essere entrato con un timing corretto mi permette di dover gestire una posizione in profitto che 100 volte meglio che gestire una posizione in perdita siete d'accordo no perché se io devo gestire una posizione in profitto banalmente sto guadagnando cosa faccio mi porto lo stop in pari se la posizione è già scesa abbastanza mi porto a casa a metà del profitto se invece la posizione ancora deve scendere posso comunque mettere lo stop in pari e non rischiare più nulla insomma posso riuscire ad avere un'operatività molto più rilassata perché gestire profitti è sicuramente meglio che gestire le perdite guardate anche il dax cosa ha fatto con il secondo livello che avevamo trovato l'ha praticamente sfiorato qua per poi scendere e la cosa interessante era come noi abbiamo trovato questo livello perché senza ichimoku questo livello non era visibile infatti potevamo andare a vedere eccolo qua tracciamo fibonacci che qui eravamo oltre il 61 e 8 ma come mai io avevo già messo livello di entri qua sopra e quindi seconda lezione del giorno perché vi tolgo i disegni così è più chiaro se mettiamo ichimoku vediamo che esattamente qua c'era la nostra kijun piatta e tutte queste indicazioni quindi come utilizzare queste linee piatte di ichimoku come utilizzare la divergenza per il disequilibrio eccetera 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 come sempre le potete trovare qua costanza appunto it c'è in libro sulla strategia operativa e vedete che questa è una strategia per chi ha poco tempo da dedicare i grafici quindi una strategia che lavora sul time frame daily io nel senso ve lo ripeto nuovamente magari per chi è nuovo non lo sa non ci guadagno assolutamente nulla dal vendervi questo libro perché in realtà le mie royalties stanno a zero visto che amazon ha dei costi esagerati sia per stampare che per spedire e quindi per non vendere il libro tipo a 40 euro ho deciso di tagliare completamente i profitti che potevo avere però mi piace insomma che si crei un po di condivisione un po di conoscenza in più e quindi insomma se può farvi comodo sicuramente un libro che vi consiglio di leggere perché ichimoku è un indicatore molto molto completo che ci può facilitare veramente in maniera assurda l'operatività perché ti dà un sacco già di livelli di cose alle quali tu non devi più pensare perché lo fa l'indicatore per te quindi non è magia non ti dà i livelli esatti nel cuore devi comprare o vendere ma si dà delle indicazioni su livelli particolari poi sta a noi anche in base alla macroeconomia alle notizie all'operatività al time frame eccetera 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 decidere come operare però è di una precisione ogni volta strabiliando ogni volta riesce a stupirmi e guardate quindi anche il DAX che candelona che ha fatto fossimo entrati qua con la seconda entrata staremo di nuovo performando un sacco qui torniamo anche al problema di cui vi ho parlato ieri cioè quello del conto ftmo vedete qua io avessi avuto un mio conto avrei fatto dei profitti stellari quindi siccome mi sono rotto le palle di lasciare sul piatto tutti questi profitti di operazioni che so benissimo che posso fare perché sono buone sono interessanti ma non le faccio perché tanto non raggiungerei il 10 per cento perché non posso rischiare al massimo x y z basta mi sono un po rotto le scatole e quindi come vi ho già detto non appena avrò un minimo di capitale interessante mi aprirò il mio conto personale allora per quello che riguarda poi le altre cose interessanti forse vabbè allora intanto vi ricordo che oggi ci sono il tasso di inflazione della zona europea dell'eurozona e tra l'altro sono uscite anche delle news per quello che riguarda l'eurozona che dicono per quello che riguarda l'inflazione non abbiamo cambiato idea sul rialzo dei tassi di interesse il nostro outlook non è cambiato e quindi continuiamo a voler comportarci come abbiamo detto in passato vedete continueremo ad alzare i tassi di interesse per ridurre l'inflazione quindi ad oggi qualsiasi sia il dato sull'inflazione nell'eurozona la bce ha detto noi continueremo ad alzare i tassi ovviamente se l'inflazione dovesse scendere a livelli esagerati sicuramente vedremo un euro che può perdere parecchio ma teoricamente con inflazioni che rimane uguale o che sale l'euro dovrebbe continuare tra virgolette ad apprezzarsi perché la bce ha detto noi continueremo ad alzare i tassi il mercato sicuramente questa cosa qua la sta già scontando ma adesso ci sarà un momento di pausa un po di respiro fino alle ore 11 perché giustamente prima i mercati vorranno vedere il dato tra l'altro fatemi vedere i dati dell'inflazione allora vabbè a parte che possiamo andare direttamente qua su investing calendario economico allora i dati dell'inflazione sono all'8,6 dato precedente si aspetta un aumento all'8,9 per cento quindi vedremo se i dati attuali vanno sopra il 9 per cento oppure ci stanno sotto direi che per quello che ci riguarda in questo momento è tutto guardate anche loro come sta rimbalzando millimetricamente sul livello trovato di resistenza di nuovo vedete c'è proprio esemplare lo vediamo ogni giorno ogni settimana ogni mese come fare trading sia solo una questione di pazienza perché è un lavoro stupido cioè guardate quanto era banale che qui il grafico avrebbe trovato una resistenza poi lasciate perdere il fatto che ci ha rimbalzato o che avrebbe potuto romperla ovviamente poi non è che ogni volta troviamo una resistenza quella funziona ogni volta troviamo un supporto ma nella maggior parte dei casi questo accade e avere una strategia diciamo profittevole se noi ovviamente ci alleghiamo il giusto money management è una cazzata lasciatemi dire perché è tutta una questione di gestione perché a livello tecnico è iper banale poi adesso ovviamente non sto dicendo che è un lavoro iper facile perché perché a livello tecnico è iper facile poi si mischiano una sequenza di psicologia money management conoscenza dei mercati che ovviamente poi vanno a complicare il tutto però al di là di tutto se io non sapessi assolutamente nulla e guardassi solamente i grafici è banale riuscire a dire guarda qui c'è un livello importante io cerco di portarmi a casa qualcosa se il grafico ci rimbalza cioè è veramente la cosa più facile del mondo e vi sottolineo questo di nuovo per ricordarvi quanto è importante non complicarsi la vita con inutili mix di indicatori ne uso 4 perché almeno tutti mi dicono sei iper venduto iper comprato poi vado a guardarmi tutte le minime notizie quelle da 3 stelle da 2 stelle da una stella eccetera 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 mi leggo gli analisti serve veramente a poco l'importante è rimanere informati su quello che succede capire più o meno il perché dei macro movimenti che si stanno creando è avere il sangue freddo petroglio che continua a scendere alla fine è arrivato praticamente dove ci siamo detti quindi tanta roba per il petroglio e ragazzi btc btc insomma secondo me come vi avevo già disegnato tempo fa che stavamo seguendo questo canale rialzista eccolo qui ormai mi aspetto questo livello di nuovo iper banalità per cercare uno short quindi se arriviamo nella zona intorno ai 30.000 di nuovo non è che è arrivato a 29.900 è short o pum e punto tutto sul ribasso inizierò a costruire una posizione ribassista perché di nuovo non posso sapere il mercato quanto decide di salire ancora ma secondo le mie statistiche analisi eccetera 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 penso che molto facilmente si possa continuare ad andare verso il basso e sicuramente poi sicuro non esiste dico sicuramente per quello che mi riguarda andare a toccare dei nuovi minimi scusate andare a toccare i minimi passati o addirittura fare anche dei nuovi minimi a dei livelli magari anche impensabili perché qui sono sicuro che si creerebbe della food panic selling allora questi per me potrebbero essere veramente i nuovi bottom ma vedremo vedremo tanto alla fine come sappiamo bitcoin è legato in maniera quasi univoca al mercato delle equities americane e quindi vediamo per ora come vi ho già detto per me il mercato americano può fare ancora un altro strappo verso l'alto molto tranquillamente andando a toccare qua quasi 4400 e da qui invece lo short diventa molto 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 più interessante anche se comunque già da qua costruirlo non è sicuramente male detto questo insomma io vi saluto vi ringrazio non so se riuscirò ma penso e spero di sì mentre siamo in viaggio a registrare altri video tenerci aggiornati comunque sicuramente proverò a far qualcosa noi quindi teoricamente ci vediamo durante la settimana non dimenticatevi ovviamente di seguirci sia su telegram che su instagram perché insomma tutto il nostro tour estivo verrà postato lì e sarà quindi fondamentale riuscire a a seguirci un po' anche per partecipare attivamente alle interviste e alle cose che faremo in questi posti buona giornata a tutti e a presto